È iniziata ufficialmente la stagione estiva 2022 con un anticipo di circa 10 giorni rispetto agli anni passati, una decisione accolta positivamente da molti gestori dei lidi e soprattutto dai clienti, complice il bel tempo con temperature sopra la media stagionale. Ottima cosa quella di anticipare l'inizio della stagione, anche se Termoli riuscisse a capire che aprire prima vuol dire far iniziare prima tutto il movimento turistico sarebbe un bene per tutta la città. È un messaggio positivo, la possibilità di vivere nel mare, di vivere la spiaggia per un periodo più lungo è sicuramente una cosa favorevole, quindi io anticiperei ancora, io sarei favorevole per aprire anche prima del 20 maggio. È un primo passo, speriamo che ci sia una consapevolezza, una mentalità condivisa da parte anche dei colleghi che aprire prima vuol dire aumentare anche i nostri incassi perché obiettivamente la richiesta del servizio balneare comunque c'è anche a maggio. Dopo i due anni di pandemia, l'esale 2022 verrà ricordata come la stagione della rinascita, via il green pass e mascherine garantita la sanificazione quotidiana delle attrezzature. La regione molise, insieme all'Emilia Romagna, sono le uniche che hanno deciso di mantenere le distanze tra gli ombrelloni di 10 metri quadrati per ogni postazione. Vogliamo continuare a tutelare e proteggere i nostri clienti, hanno detto i gestori, e qualcuno ha precisato che si tratta di una semilibertà perché la pandemia non è finita e non bisogna abbassare la guardia. Ci si aspetta una stagione balneare positiva. Le prenotazioni, non solo negli Lidi ma anche negli alberghi, lo confermano. C'è il tutto esaurito anche in questo primo weekend. Stando ai dati dell'Osservatorio Nazionale FederConsumatori, quest'anno è aumentato l'interesse per le località di mare e questo porterà gli italiani a spendere di più rispetto agli anni passati, anche se i prezzi sono aumentati di circa 10-20%, una conseguenza della crisi economica in corso. Dopo alcuni anni di Covid, che comunque i prezzi erano stati congelati, quindi abbiamo cercato di mantenere i prezzi fermi, però siamo stati costretti ad aumentare quest'anno, visto che comunque c'è stato un incremento notevole, se non raddoppio, in alcuni casi anche più del doppio, riguardo un po' tutti i settori, sia riguardo l'acquisto di materie di attrezzature primarie, quindi l'acquisto di ombrelloni, sdra e lettini, che in un anno è quasi raddoppiato, e sia anche per quanto riguarda le materie prima per i nostri ristoranti, per i nostri bar. Basta facciamo un esempio, con l'esempio l'olio di semi da 90 centesimi, che stava l'anno scorso e è arrivato a 3,50 euro. Sui gestori dei Lidi incombe sempre il problema delle concessioni balneari, che si dovrebbe risolvere a breve e rimangono fiduciosi. C'è questa ghigliottina, tra virgolette, che pende appunto da svariati anni e quest'anno dovrebbe risolversi con la legge in Parlamento che ferma la decima commissione in Senato. È partita la stagione balneari 2022, sicuramente sarà positiva.